Dragone Giada a B-Line, Colombo Agnese patinatore Caronno Pertusella, Parma Rebecca polisportiva Bellusco, Zapparoni Viola patinaggio Caronno Pertusella, Divitotto Aurora ancora Caronno Pertusella, Cetti Selene Schetti in Guboldo, Francolina Alessia Gbimo in Cantù, Gatti Sara Briante in line, Bifi Sara Schetti in Cassano, Filippi Francesca Caluschese, Rocchetti Susanna B-Roller, Barri Lani, Rebecca Gbimo in Cantù, Pirotta Giorgia Schetti in Cassano, Bere Alice polisportiva Bellusco, Lissandron Gaia Schetti in Rovigo, Reale Giulia patinatore San Mauro, Cadenatti Raffaella Gbimo in Cantù Cadenali Ambo Err Cristo di Bahrain Le Paranello Cadenali Ambo Senta con la Bacchiero Al passaggio dei meno 24 suono della campana dal prossimo arrivo eliminazione. 8-5-0 eliminata. 3-3-9 eliminata. 3-3-9. 2-6-4 eliminata. 2-6-4. 3-5-0 eliminata. Munizione per il numero 500. 5-1-1. 5-1-1 eliminato. 5-1-1. 2-5-2. 2-5-0 eliminata. 3-5-0 eliminata. 3-5-0 eliminata. 7-5-0 eliminata. 7-4-5 eliminata. 7-4-5. 3-5-0 eliminata. 3-5-0 eliminata. 3-5-0 eliminata. 3-5-0 eliminata. 1-6-0 eliminazione per il numero 1-6-0 il 160 numero 160 deve fermarsi 160 deve fermarsi 3-2-2 eliminata 1-6-0 numero 76 7-6 eliminato 76 il numero 76 deve fermarsi 17 eliminato il numero 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 21 22 294 eliminato il numero 294 419 ammonito ammonizione 419 419 21 22 22 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 25 25 25 25 26 26 27 26 28 28 29 29 29 29 30 numero 19 a Monito 8-5-2 a Monito 16 eliminato numero 16 numero 16 numero 16 numero 18 e che aggiudicherà sia per la categoria junior 261 eliminata nel frattempo 261 siamo alla volata per il traguardo volante verrà preso tutto il passaggio dell'intera gara per poter assegnare sia il premio agli junior che i senior non che l'eliminazione numero 19 eliminato numero 19 4-1-9 4-1-9 eliminata 4-1-9 nel frattempo il gruppo di testa si è ricomposto dopo l'allungo per il traguardo volante precedente nell'intera gara non è 46 eliminato, numero 46 47 eliminato, numero 46 47 eliminato 500, numero 500 eliminato 48 eliminato, numero 46 siamo al passaggio del meno 3 4-9 eliminato, 4-4-9 140 eliminato, numero 140 al prossimo passaggio campana e ultimo giro nonché ultima eliminazione lanciano la golotta 4-5-4 eliminato 4-5-4 eliminato 4-5-4 fermarsi 6-4 eliminato, 8-5-4支持 MAJORO 4-5-4 10-0 , סęgi LAJORO MAJORO 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 Grazie a tutti.